Teremo in campo domani per il turno infrasettimanale contro la Triestina. A Trieste il termo cercherà l'ottavo risultato utile consecutivo, ma Asta nella conferenza stampa odierna ha sottolineato come sia molto più importante continuare a fare punti quando il momento è negativo, non concentrandosi per l'appunto sulle prestazioni in calo da Sant'Arcangelo fino alla partita scorsa contro il Sud Tirol. Sono strafelice. Quello che riusciremo a fare ogni domenica sono realista. Io è il massimo che faremo. I giocatori sono stati applauditi da tutti i tifosi perché hanno dato l'anima, hanno dato l'anima. Io voglio questo, i giocatori lo sanno. Voglio tanti gol, ma chi non vuole tanti gol? C'ho Cristiano Ronaldo, c'ho quello, c'ho realisti. Guardate, sono strafelici. Cambiamenti invece ci potrebbero essere a centrocampo con l'inserimento di Graziano e l'ipotesi di De Grazia titolare, mentre in attacco è ballottaggio tra Foggia, Tulli e Barbuti per due maglie con il doppio centravanti che al momento potrebbe essere una delle ipotesi più caldeggiate dall'allenatore. Ha giocato col Padova il primo tempo e un po' anche del secondo. Assolutamente non è detto che può essere una coppia che possa giocare insieme o proporre anche Tulli trequartista quando ci sarà un po' più di squadra. L'ho detto e capiterà, Tulli sottopunta i due attaccanti e se è un più offensivo. In questo momento siamo ancora anche accorti in certe cose, voglio una squadra più compatta, piano piano, quando trovi fiducia, cambi sistema, proponi più attaccanti, non ci sarà problema. Dall'altra parte invece Triestina senza l'ex Mirko Petrella che si è infortunato a Pordenone nell'ultima vittoria della squadra di San Nino e quindi non giocherà appunto il grande ex della gara. Io, guarda, mi dispiace per lui perché se è fatto male spero che non sia nulla di grave. Comunque è un giocatore che lo metti 5 minuti, 10 minuti così è fastidioso. È un giocatore che ti crea dei problemi, c'è l'uno contro uno, il mancino è importante. Mi dispiace per lui però in questo momento meglio per noi. Asta aspetta ancora quel qualcosa in più che possa dare ad esempio a un giocatore come Tullio, come Bacio Terracino per cercare maggiore concretezza in avanti. ammettendo comunque che lavorerà in futuro per rendere più offensivo l'attuale 3-5-2. Spero che Giacomo Tulli in questo caso dia veramente quella scintilla perché lo aspettiamo più che mai. È logico che uno dice sì ma aspettiamolo fino a quando. È vero, è già un dato di fatto, però prima di un giocatore poterlo vorrei aspettare con le qualità. Grazie. Grazie. Grazie.